È un momento molto importante per la regione Campania, direi che l'ecosistema delle start-up gode di ottima salute. Abbiamo circa 1.400 start-up, la regione si conferma terza in Italia, Napoli la terza città, Salerno è settima, ma soprattutto quello che è interessante è il tasso di crescita, cioè la dinamicità di questo mondo di start-up. La cosa interessante è che abbiamo sia molte start-up che lavorano nel digitale, come normale che sia in questo momento, ma anche tante start-up che lavorano nel deep tech, quindi anche molti spin-off della ricerca. Noi abbiamo sette università sul nostro territorio, lavoriamo molto in rete e cerchiamo di spingere sul trasferimento tecnologico e quindi siamo molto contenti anche di queste start-up che lavorano nelle filiere industriali, insomma dal farmaceutico all'aerospazio, alla mobilità, nelle scienze della vita e quant'altro. L'altra cosa interessante è che vediamo che abbiamo l'attenzione anche finalmente un po' del mondo dei venture, su molti fondi nazionali, la regione Campania, le start-up Campania tirano moltissimo, come il 40% sui fondi di seed per il sud. Abbiamo l'acceleratore Terra Next di cassa depositi e prestiti sulla bioeconomia con sede in Campania, l'acceleratore vita nazionale sul digital health, quindi insomma nuove new entry e un consolidamento di ciò su cui noi stavamo già lavorando da tempo. Giffoni e in particolare Giffoni Innovation Hub per noi è un interlocutore veramente importante. apprezziamo moltissimo e l'abbiamo seguiti nel tempo, il loro modo di lavorare che è molto aperto, molto collaborativo e anche molto aperto all'internazionalizzazione, quindi un luogo dove si creano talenti, si accompagnano i talenti a fare start-up, si lavora diciamo sui contenuti creativi e soprattutto è sempre di più un centro che riesce a dialogare anche con tante altre iniziative di livello nazionale. Oggi siamo qui al Sios, insomma, ne è una testimonianza e penso insomma che questo luogo che cresce sia dal punto di vista delle infrastrutture fisiche, sia dal punto di vista delle aree di business, lasciatemi passare il termine, insomma, credo che ci darà ancora molte soddisfazioni nei prossimi mesi.